Lo spazio dopo quello del Parco del Sole, presso uno al San Francesco, questo insomma meritava giustizia, tanti anni però ci siamo. Sì, questa era una zona che è stata per troppi anni nel degrado, addirittura dopo il terremoto è stata anche utilizzata come deposito, parcheggio, un po' di tutto. E finalmente sì, si fa giustizia di quest'area in un quartiere molto popoloso della città, vicino a delle scuole, qui vicino a poche centinaia di metri abbiamo anche fatto la casa delle api e a breve partiranno altri lavori. È un'opera di riqualificazione del tessuto urbano e finalmente partiamo dal principio che non serve aspettare la fine della ricostruzione per rimettere mano alle strade, alle pavimentazioni, ai parchi, ai luoghi, in particolar modo a luoghi che saranno vissuti soprattutto da giovani, da ragazzi e da anziani.